Sarà una legislatura di riforme di cui la Basilicata ha enorme bisogno. Ci siamo dati alcuni obiettivi e stiamo predisponendo una scala di priorità che credo sia la cosa più importante da farsi. Dopodiché saremo impegnati per la riforma del sistema sanitario regionale, saremo impegnati per dare corso ad una politica industriale degna di questo nome, saremo tutti propensi anche ad avviare, a continuare l'attività sulle politiche energetiche che hanno dato buoni frutti e sono stati premati dai cittadini. Per quanto riguarda la giunta regionale ci siamo dati una deadline perché crediamo che la regione Basilicata non possa attendere oltre. Entro dieci giorni avremo un governo regionale che sarà sicuramente autorevole e all'altezza delle aspettative della comunità.